sentite, ora vi faccio un indovinello per chi è più intelligente tutti e due aspetatemi bene, ci sta un cane legato ad una catena lunga un metro deve arrivare alla sua ciotola che sta lontana due metri da lui, come fa a bere? un pezzacate? no, un bunnacure? no, un bunnacure senza zucco? no, che ha fatto con zucco? ci è arrivato? no, non c'è il pane